Buongiorno Daido, AMD ha presentato ieri le sue nuove schede video, ormai più di un mesetto fa abbiamo parlato della presentazione delle nuove Nvidia RTX 4000, ebbene queste di AMD sono una risposta, ma non sono una risposta, vediamo perché. L'architettura delle schede è RDNA3, e i modelli presentati sono due, Radeon RX 7900 XTX e 7900 XT. Per il design delle GPU, AMD ha adottato una soluzione simile a quella dei suoi processori Ryzen, cioè con chiplet interconnessi, uno per la compute unit e sei per la memoria cache collegati con bus a 64 bit. Questo consente di ridurre i costi e abbassare le probabilità di produrre intere unità difettose, dato che se uno dei chip è rotto, possono sostituire solo quello e non tutta la GPU. Poi c'è la memoria VRAM GDDR6, con una velocità di comunicazione interna più che doppia rispetto alla precedente generazione, e si parla anche di una crescita di circa il 54% delle prestazioni per Watt. Miglioramenti anche in zona Ray Tracing, che ora è gestito da un RT Accelerator di seconda generazione, e poi sono supportate le specifiche di DisplayPort 2.1, quindi frequenze di refresh molto alte, anche a risoluzioni elevate come 4K, 8K, ovviamente sugli schermi che lo supportano. E naturalmente anche l'engine per codifica e decodifica dei flussi video, con il supporto anche a AV1 fino a 8K a 60fps. I due modelli presentati ieri sono i più potenti della gamma, che è una soluzione adottata anche da Nvidia con l'RTX 4000. Vediamo in breve le differenze principali. La RX 7900 XTX viaggia a 2.3 GHz e monta 24 GB di memoria RAM, per un consumo totale di 355 Watt, mentre la RX 7900 XT va a 2 GHz con 20 GB di memoria, con un consumo di 300 Watt. Il punto su cui la comunicazione insiste è naturalmente il price point, perché di questo si è molto discusso in seguito alle presentazioni di Nvidia, che ricordiamo ha piazzato la 4090 a 1599 dollari e la 4080 a 1119 dollari, togliendo poi dal mercato prima del lancio la 4080 finta a 899 dollari, che quindi per il momento non si sa che fine ha fatto. Bene, le due schede AMD saranno posizionate rispettivamente a 999 dollari e 899 dollari, quindi ben al di sotto delle rivali. Questo stride un po' con le dichiarazioni di Nvidia, che aveva detto che oggi non è più possibile aspettarsi componenti hardware di questo livello ai prezzi delle generazioni precedenti, mentre queste schede AMD sono state prezzate proprio come i modelli precedenti. Chiaro che se guardiamo i numeri le prestazioni sono inferiori alle sorellone di Nvidia, ma tra la top di AMD e la top Nvidia ci sono 600 dollari di differenza, e in termini di potenza per Watt questo incremento per ora non sembra essere giustificato. Comunque le schede saranno disponibili ufficialmente sul mercato dal 13 dicembre, quindi nelle prossime settimane arriveranno certamente le prime review ufficiali degli specialisti e sarà interessante vedere come questa nuova generazione di schede AMD se la cava sul campo. Oh, nella seconda news ci troviamo purtroppo ancora una volta a parlare di layoff, cioè brutalmente taglia il personale, una tendenza che non sembra volersi arrestare nel mercato IT. Gli ultimi due grossi nomi da annunciare i tagli sono Stripe e Lyft, che è praticamente un concorrente di Uber che stoppa l'airing e licenzia circa 700 persone su 5.000. Ai dipendenti in uscita Lyft garantisce 10 settimane di stipendio, assicurazione sanitaria fino al 30 aprile 2023 e assistenza nella ricerca di un nuovo lavoro. Stripe invece, che è un servizio per i pagamenti online, taglia il 14% dello staff, che corrisponde a circa 1.100 persone con un trattamento di fine rapporto simile a quello offerto da Lyft. Questi nomi seguono una tendenza che abbiamo già osservato in altre compagnie e un generale rallentamento o congelamento dell'airing anche in realtà enormi come Microsoft e Apple, quindi non sono casi isolati ma un fenomeno da analizzare che probabilmente ci prepara a un mercato nei prossimi anni diverso da quello che abbiamo conosciuto finora. Doveroso a questo punto in ultimo citare anche Twitter purtroppo perché i grossi tagli annunciati dal nostro sono confermati e molte persone stanno in questi momenti ricevendo le email che li informano della fine del rapporto. Secondo le stime si dovrebbe arrivare a un'uscita di circa il 50% dei dipendenti e la situazione non è buona perché mentre i citati Stripe e Lyft offrono un trattamento di uscita rispettoso delle leggi e anche qualcosa di più, di non dovuto, in Twitter invece questo non sembra stia accadendo per niente e su Twitter stesso, cioè sul social network proprio, si possono leggere i resoconti di quelli che stanno abbandonando anche con scene abbastanza tristi come per esempio dipendenti che si scambiano saluti e auguri a vicenda su Slack fino a che l'accesso gli viene irrimediabilmente tolto che sembra un po' uno schiocco di dita di Thanos, no? E metà dello staff sparisce. Bene, chiusura in allegria per questo buongiorno che comunque vi ringrazio di aver seguito è venerdì quindi buon weekend a tutti ah, vi ricordo che lunedì c'è la live di Continuous Delivery alle 17 ospiti Mirko Brombin e Luca Di Maio, torneremo a parlare di Linus e basta, ci vediamo a un prossimo buongiornone ciao ciao